E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. 15 anni, o se preferite, 120 gol di differenza in Serie A. Fabio Quagliarella, bomber senza età, 159 reti in carriera. Contro Patrick Cutrone, 20 anni e nuovo eroe rossonero. Già cinque gol in campionato alla sua prima stagione tra i grandi. Milan e Sampdoria, divise da tre punti e a caccia dell'ultimo posto disponibile per l'Europa League. Sarà soprattutto la loro sfida. Quagliarella con 17 reti è la sua miglior stagione di sempre in Serie A. Patrick Cutrone, a suon di gol, ha trascinato la rimonta del nuovo Milan. Si è tarantolato, perché c'è il veleno. Su lui è uno che ha una voglia incredibile, ma non deve perdere questo entusiasmo. È un numero nove, uno che sente gol, si muove. E Nanguilla scivola sempre, ti mette sempre in grandissima apprezzione. Da una parte il secondo miglior attaccante Under 20 in tutta Europa. Dall'altra, il miglior realizzatore in attività della Serie A con 125 reti. Un bomber senza età contro il nuovo eroe rosso-nero. Tutto è pronto per la nuova sfida del gol. San Siro domenica sera deciderà il vincitore. An Stia MUELLER, a suon di Robertson, a suon di QTSS.